Il covid e il periodo del lockdown abbiamo notato come dati di polizia che hanno notevolmente influenzato la non immersione del sommerso. Il problema del sommerso di quelle donne cioè che non sono ancora riuscite a trovare la forza di denunciare situazioni di pericolo nei lunghi mesi dell'emergenza pandemica si è acuito. Il lockdown, la convivenza forzata hanno frenato le denunce e costretto molte donne a sopportare in silenzio. Già lo scorso anno i numeri della direzione centrale della polizia criminale evidenziavano che i cosiddetti reati sentinella in cui erano stati accomunati i maltrattamenti, le violenze sessuali e gli atti persecutori erano diminuiti, un dato che però porta con sé un'amara lettura. Ci ha fatto comprendere che le donne purtroppo in quel periodo avevano più difficoltà a recarsi nei luoghi delle denunce, nei luoghi dei centri di ascolto o presso i pronto soccorsi. O comunque hanno dovuto gestire situazioni di violenza cercando di mantenere bassi toni per evitare le violenze fisiche e sopportare solo quelle psicologiche. Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, diverse le campagne di sensibilizzazione in programma. L'associazione Telefono Donna, i servizi sociali del territorio in cui si vive e naturalmente le forze dell'ordine sono i primi riferimenti anche per tentare di prevenire. La prima volta in cui si subisce una violenza fisica, se vengono a presentare una richiesta di ammonimento presso la questura, noi valuteremo e se ci sono gli estremi ammoniremo la persona che ha causato questa violenza, che non necessariamente deve essere il compagno convivente, può essere anche il fidanzato, può essere anche un compagno che non condivide stabilmente la stessa dimora. Questo è molto importante saperlo. Diverse le iniziative organizzate a Como a partire da domani, quando dalle 18.30 alle 20 è in programma un evento online dal titolo Questo non è amore. Il 25 novembre poi dalle 14 è previsto un altro appuntamento, in questo caso in Camera di Commercio, mentre in Largomiglio dalle 10 alle 16 sarà presente il camper della Polizia di Stato, dove poter incontrare dal vivo gli operatori insieme con il personale di Telefono Donna. Nella stessa giornata la facciata della questura si illuminerà di arancione dalle 17.30 per l'iniziativa promossa da Soroptimist International. Nella stessa giornata la facciata della stessa giornata.